il numero degli invitati sono 25 il luogo è il castello spiegato poi qua bisogna scrivere cosa si serve di oggetti quanti e il costo il costo individuale unitario individuale e poi qua bisogna scrivere poi dopo potreste andare alla ricerca su internet dei prezzi reali rispetto a quelli che voi avete individuato per vedere se siete arrivati come stima più vicine al prezzo reale e poi fare spooky 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via!